Benvenuti! Oggi vedremo il primo di tre documentari di produzione tedesca dedicati a donne famose del passato, o meglio, a donne che sono famose perché sono state le amanti di grandi personaggi storici. Ed è anche questa una prospettiva da cui si può raccontare la storia, anche se qualcuno potrebbe arricciare un po' il naso di fronte a una serie che si intitola Amanti, il potere segreto delle donne. Ma come vedrete non dobbiamo prenderla troppo sul serio. La protagonista di oggi è Giulia Farnese, che fu l'amante del cardinale Rodrigo Borgia, il quale nell'anno 1492, in pieno rinascimento quindi, è diventato papa col nome di Alessandro VI, uno dei papi più malfamati della storia. Giulia non è stata la sua prima amante e forse neanche l'ultima. Per capirci non è lei la mamma di Lucrezia Borgia, di Cesare Borgia. È un personaggio anche abbastanza scialbo la Giulia, però ci permette di vedere dal buco della serratura la vita scandalosa dei papi del Rinascimento. La prospettiva è proprio quella della vecchia storiografia tedesca protestante, che faceva inorridire i buoni tedeschi raccontando le brutte cose che facevano i papi e i cardinali a Roma prima che il dottor Lutero li costringesse a fare un po' di pulizia. Il tutto commentato, come vedrete, da entusiaste professoresse austriache, con gli occhetti che brillano all'idea di essere intervistati su queste cose scandalose, su questa Roma del Rinascimento piena di prostitute e di assassini. E così vedremo dal buco della serratura appunto le orge nel palazzo del cardinale Borgia, il quale partecipa alle orge in casa sua vestito da cardinale, di porpora, perché altrimenti gli spettatori rischiano di non capire che lui è il cardinale. Io a questo punto attirerei la vostra attenzione su un personaggio secondario, che però forse è ancora più interessante, è il fratellone della Giulia, Alessandro Farnese, che poi Papa Borgia a un certo punto, per far piacere a Giulia, nomina cardinale. Intanto è quello che ha fabbricato Palazzo Farnese a Roma, dove oggi c'è l'ambasciata di Francia e la meravigliosa biblioteca dell'Ecole Française. Ma poi Alessandro Farnese è appassionante come personaggio, perché da giovane si è divertito un mondo anche lui, col Papa, con la sorella. Poi invecchiando ha messo la testa a partito, è diventato devoto, serissimo e alla fine hanno fatto Papa anche lui, col nome di Paolo III. Ecco, Papa Farnese è quello che si è trovato sulle braccia alla riforma protestante e l'ha affrontata molto seriamente. È lui che ha convocato per primo il concilio di Trento, che dà inizio alla controriforma. È lui che siccome bisognava combattere con energia la peste protestante, ha fondato l'Inquisizione Romana, anche nota come il Santo Uffizio. È lui che ha istituito i Gesuiti, su idea di Ignazio di Loyola. È alla sua epoca che Michelangelo dipinge la Cappella Sistina. Insomma, Papa Farnese è un Papa che ha cambiato la storia. Ed è buffo pensare che è lo stesso ragazzone che noi vedremo fra poco, 50 anni prima, divertirsi nelle orge al palazzo del Cardinale Rodrigo. Come dire che i tempi cambiano e gli uomini anche. Buona visione. La basila è la sua epoca. La Basilica di San Pietro a Roma, uno dei luoghi più sacri della cristianità. Soltanto al Pape e a pochi cardinali è concesso celebrare Messa qui, nel cuore della Basilica. Proprio accanto all'altare principale, in un'area recintata, si trova questa scultura. Il Vaticano tace, ma il volto rappresentato, immortale ai tratti di una donna che ha condiviso il letto con un Papa. Avevo 15 anni quando andai a Roma per la prima volta. Fino a quel momento non ero mai uscita dal palazzo residenziale della mia famiglia, a Capodimonte. Becore e soldati erano stati la mia unica compagnia. La mia educazione si può sintetizzare nella frase «Questo non si confà ad una Farnese». Giulia Farnese viene introdotta giovanissima nella società romana da suo fratello Alessandro. Per un'ingenua ragazza di provincia è un'esperienza scioccante. La mia prima uscita nel mondo romano mi portò sfortunatamente al banchetto di un gentiluomo noto a tutti per la sua dissolutezza. Giulia, non fissare in quella direzione. Quella è Vannozza, l'amante del cardinale. È insieme ai due figli che ha avuto da lui. E il cardinale non lo tiene nascosto? Tutti lo sanno, ma nessuno lo dice apertamente. Sì. Qui per questo, vi ascolterò volentieri. Rodrigo Borgia era proprietario di vasti terreni in Catalogna, oltre che cardinale della Chiesa di Roma. «Bienvenuti». «Ma questo è un peccato grave». «Altrimenti che gusto c'è?» «Capo di Monte, un borgo a nord di Roma, è il luogo d'origine della casata dalla quale discendono Giulia e Alessandro. I fernese sono signorotti di campagna di lunga ascendenza e governano ancora secondo principi feudali. Ma ora spostiamoci dalla provincia verso Roma, il centro del potere. a Roma la bella Giulia rappresenta solo una merce di scambio da barattare con qualcosa di valore. La sua storia è collegata all'ascesa dei Farnese e si è tramandata nei secoli anche grazie a questa statua dall'aspetto enigmatico. Una storia che avrebbe dovuto essere dimenticata per sempre. Tutto ha inizio con una festa scandalosa voluta dal cardinale Rodrigo Borgia. Nessuno aveva detto a Giulia che nel dissoluto programma della serata era stata inserita anche l'organizzazione delle sue nozze. La fama di Rodrigo Borgia era giunta fino alle mura di Capodimonte. Si parlava di lui come dell'uomo più ricco di Roma, più potente dello stesso Papa. Perché non vuoi credermi? Sai che sono un tipo sospettoso. E va bene, basta con le bugie. Chi è quel brutto guercio laggiù? Quello? Perché si sta prendendo tante confidenze? State davvero dicendo che non conoscete il vostro futuro marito, dolce Giulia? Ho forse rivelato un piccolo segreto familiare. Che volete che sia? Il matrimonio non è certo servo dell'amore. Che cosa intendete dire? Salute! Salute! Vi è il famoso detto Roma Caput Mundi, ovvero Roma Capitale del Mondo, che nel periodo intorno al 1500 fu riformulato in Roma Cauda Mundi, ossia Roma Coda del Mondo. Diverse fonti affermano che nel XV secolo il concubinato era molto diffuso tra i sacerdoti. Ciò non significa che si sposassero, ma avevano relazioni simili al matrimonio. Secondo alcune fonti, vi sarebbero stati addirittura alcuni sacerdoti che vivevano con le loro concubine all'interno del Vaticano. Questo suscitava ovviamente molte critiche. Per sfuggire alle critiche, i potenti del Vaticano spostano le loro residenze a Castel Sant'Angelo. Protetti dalle alte mura di questa fortezza, papi e cardinali possono finalmente condurre di nascosto uno stile di vita decisamente mondano. La tiara, la corona papale, trionfa accanto a raffigurazioni provocanti. Entrambe abbelliscono le dimore papali. Questi quadri, raffiguranti orge e bellezze senza veli, ci mostrano che tipo di vita conducessero i papi. Il loro severo voto di castità non li tratteneva dalle avventure erotiche. Seguivano in questo modo lo spirito del loro tempo, una delle epoche più sfavillanti della storia, il Rinascimento. Alla fine del XV secolo assistiamo al passaggio dal Medioevo ad una nuova società, più aperta al mondo. Improvvisamente moltissime cose diventano possibili, cose alle quali prima non si osava nemmeno pensare. Così si può essere credenti e allo stesso tempo lasciarsi coinvolgere da alcune situazioni trasgressive che la fede vieterebbe. Nel Rinascimento le passioni più sfrenate si scontrano con uno stile di vita raffinato. Le arti raggiungono il loro apice. Con la riscoperta dell'antichità si riassapora anche la libido, ma nello stesso tempo i membri delle famiglie nobili si assassinano a vicenda pur di diventare i nuovi cesari. È il tempo degli estremi, coesistono amore e violenza, luci e ombre. A sua insaputa Giulia è stata promessa in sposa al suo futuro marito. Il nome del guercio è Urso Ursini, discende da una famiglia nobiliare potente, ma neanche la sua volontà ha alcun valore. Il matrimonio ha il solo scopo di moltiplicare le ricchezze e l'influenza del casato. È stato deciso dalle due famiglie e sotto gli occhi delle stesse viene simbolicamente consacrato. Le nozze di Giulia e Urso vengono celebrate nel palazzo del tutore del giovane, il cardinale Borgia. È stato lui a volerle. Lo spagnolo Rodrigo Borgia è vicecancelliere del Papa e dopo il Santo Padre è il personaggio più potente di Roma. Possiamo dire che per i gusti dell'epoca la sua persona si distinguesse per una presenza attraente. Era anche molto affascinante e la combinazione di questi due elementi, bellezza e intelligenza, non si trovava con facilità. Rodrigo era anche molto ricco e questo già all'epoca era importante. Brillava per astuzia e diplomazia. Era uno di quei cardinali che sapeva stabilire rapporti amichevoli con ogni famiglia importante di Roma. Non era da tutti. Non immaginavo nemmeno come dovesse essere una prima notte di nozze. Anche il mio sposo sembrava non avere le idee chiare. Solo il cardinale Borgia sapeva quello che voleva. Per tutta la serata mi aveva seguita con i suoi sguardi. Il cardinale mi spaventa. Se il cardinale dovesse chiederti di fare qualcosa di immorale, mi raccomando, rifiuta. Certo che lo farò. Bene. Anche se sarà nostra cura far sì che non possa mai perderti di vista, Giulia. Il fratello di Giulia, Alessandro, si accorge molto presto che il cardinale Borgia desidera la giovane sposa. Ma non fa nulla per ostacolare questo desiderio. Piuttosto si offre come tramite. Sicuramente era un giovane che non si faceva grossi scrupoli e con uno stile di vita turbolento. A quell'epoca aveva circa 18 anni. Provò anche a far rinchiudere in carcere sua madre perché non gli andava a genio. E ci riuscì. Evidentemente doveva essere abbastanza normale a quei tempi. Alla fine però Alessandro viene condannato e passa un periodo in prigione a Castel Sant'Angelo perché forse anche per i giudici romani aveva superato il limite. Castel Sant'Angelo. Al contempo sontuosa dimora di papi e carcere tra i più temuti d'Italia. Nessuno fino a quel momento è riuscito ad evaderne. Eppure Alessandro esegue una fuga spettacolare scavalcandone con alcune corde le alte mura di cinta. Questa avventura lo renderà famoso in tutta Italia. Tanto che il suo gesto ispirerà 300 anni dopo il romanzo di Stendhal, la Certosa di Parma. Ma la sua ambizione si spinge molto più avanti. Alessandro Farnese vuole raggiungere i vertici della società romana e per riuscirci non conosce scrupoli. Sfruttando le grazie di sua sorella minore Giulia, cerca di accaparrarsi la benevolenza del cardinale. Ad ostacolare l'impresa però vi è un'altra donna straordinariamente sicura di sé. È l'amante storica del cardinale. Gli ha dato già quattro figli. Il suo nome è Vannozza Cattanei. Quando Vannozza incontra Rodrigo non è più giovane. Questo ci dice che i gusti del cardinale non venivano influenzati dall'età. Da quanto sappiamo lei all'epoca aveva 30 anni, quindi per gli standard del tempo stava diventando una donna matura. Soprattutto se pensiamo che Balzac considerava una donna di 30 anni alla stregua di una sessantenne. Il cardinale le era tanto legato da condurre con lei una specie di menage familiare. All'inizio trovavo strano che il cardinale Borgia cercasse la mia compagnia. D'altronde lui aveva Vannozza e io mio marito. Ma con il tempo i suoi sguardi cominciarono a divertirmi. E mi rattristavo quando non mi osservava. State in guardia, Eminenza. I romani a quanto pare stanno diffondendo barzellette sul vostro conto. Questo l'è della vostra reputazione e la vostra scesa. Cosa ti viene in mente? Giulia ha un animo totalmente puro. Lei è soltanto una bambina innocente. È il classico trucco delle prostitute. Evita invidia e rancore. Fanno invecchiare. Invecchiamo entrambi? Quando vedi che Vannozza soffriva per l'avanzare dell'età, decisi di prendermi tutto quello che il cardinale avrebbe potuto darmi, finché ne ero in tempo. Ma che bel visino d'angioletto avete, Madonna Giulia. Cosa si ce l'erà mai dietro questo bel viso? Forse il volto del diavolo? Lasciatemi. Aveva ricevuto un'istruzione di tutto rispetto. Parlava il latino, l'italiano e probabilmente anche altre lingue. Sapeva cantare e danzare. E poteva essere, per quest'uomo di 57 anni, addirittura una buona interlocutrice durante le loro conversazioni, malgrado avesse soltanto 14, 15 o 16 anni. In ogni caso, un'età inferiore ai 20. Nella sua situazione, una ragazza così giovane era un sicuro oggetto del desiderio per un uomo che ricopriva una posizione di potere. Una cosa è certa. E comunque, nemmeno la storia può confutarla o relegarla tra le leggende. Questa relazione non è frutto di fantasia. È realmente esistita. Non vi è dubbio. È un dato di fatto. Non esisterà mai più un'epoca come questa nella quale l'onestà ha perso ogni fascino, a vantaggio di ogni tipo di vizio. A Giulia piace il ruolo di amante che il fratello ha costruito per lei. Infatti, dopo un anno dall'inizio della sua relazione con il cardinale Borgia, partorisce una figlia concepita da lui. Alcuni mesi dopo, però, un nuovo evento cambia le cose. L'Assemblea dei Cardinali elegge Rodrigo Borgia al soglio di Pietro. Il 10 agosto 1492, Rodrigo Borgia diventa Papa. Quando il cerimoniere ti fa segno, gli puoi baciare i piedi. Poi ti inginocchi sul cuscino e inchini la testa. Rodrigo non ha mai badato al cerimoniale quando entrava nel mio letto. Il tuo amante non esiste più. Non si chiama più Rodrigo Borgia, bensì Alessandro VI, con un piede già in cielo a fare da tramite fra Dio e gli uomini. Un mese fa sembrava ancora piuttosto terreno. Ho avuto una figlia da lui. Non dimenticare che ne ha altri sette e la sua famiglia è ingorda. Stanno già convergendo tutti a Roma, anche quelli che non conosce nemmeno di vista. Non basterebbero dieci fortezze papali per accogliere tutti quei succhi a sangue. Al Signore è piaciuto pormi sul seggio che appartiene a Pietro. Non soltanto come pastore spirituale intento a occuparsi del suo greggio, ma anche per esercitare il potere universale che il Signore ha voluto conferirmi. Ogni secondo giorno della settimana terrò udienza per tutti coloro che desiderino porre alla mia attenzione richieste o reclami per la città. Non ti fidi più della tua sorellina. Il Papa potrà finalmente esaudire ogni tua richiesta. Se io glielo chiederò. Forse per noi non c'è più posto in questo gioco. Staremo a vedere. Guardaci però, a ripotenza. Chi? Sarà un ottimo Papa. Ne sono sicuro. A presto. Rodrigo Borgia come Papa sceglie il nome di Alessandro VI, un chiaro riferimento ad Alessandro Magno e alla sua pretesa di dominio sul mondo. Le circostanze che lo portano ad essere eletto hanno ben poco di sacro. Borgia si è comprato l'incarico regalando ai cardinali, ducati, palazzi e diocesi. Che dopo l'elezione gli sia rimasto molto denaro è evidente dallo sfarzo col quale il Papa fa allestire le sue stanze nel palazzo. Ancora oggi queste camere suscitano imbarazzo in Vaticano. Spesso restano nascoste alla vista dei visitatori e raramente viene concesso il permesso di riprenderle. Ciò che racchiudono è scandaloso persino agli occhi dei più devoti. Questo dipinto enigmatico che si trova sulla porta della sala da pranzo del Papa da secoli suscita scalpore. Diverse volte si è pensato di rimuoverla. Alcuni visitatori hanno pagato pur di poterla ammirare in segreto. Il motivo è che la Madonna raffigurata ritrarrebbe Giulia, l'amante del Papa. Per affrescare le sue stanze, Alessandro VI chiama uno dei pittori più famosi dell'epoca. Il pinturicchio. Il simbolismo nascosto nelle sue opere rimane tuttora misterioso. Esse rappresentano l'ambiziosa politica familiare del Papa, il quale persegue il rafforzamento della sua dinastia. Sotto il simbolo dei Borgia, il toro dorato, vediamo raffigurati in veste mitologica tutti i componenti della famiglia papale. In basso la figlia Lucrezia, rappresentata come santa, e il figlio Cesare, nelle vesti di un re. Se oggi si diffondesse la voce che il Santo Padre ha famiglia, il mondo intero ne resterebbe costernato. Oggi l'immagine del Papa coincide con quella di un uomo pio. Nel periodo rinascimentale era praticamente l'opposto. Queste nefandezze non devono stupirci, perché è stato così per lungo tempo. Molti papi hanno avuto figli, ma con Alessandro VI c'è una novità. Il Papa Borgia li riconosce. Dichiara apertamente di avere una vita familiare e ammetto in questo modo anche le sue ambizioni di potere. A Roma, in Campo dei Fiori, sopra quello che un tempo era l'ingresso della Taverna della Vacca, famosa per essere frequentata da prostitute, è ancora visibile questo stemma. Mostra sia il toro dei Borgia che l'emblema di Vannozza, l'amante del Papa, che possedeva a Roma diverse locande. Una immagine singolare, Vannozza pubblicizza la taverna servendosi dello stemma del suo amante, il Papa. Vannozza aveva lavorato molto per creare una specie di impero femminile. Aveva una personalità impressionante e ha influenzato Alessandro anche da Papa. Era molto importante per lui. Fino alla morte di Alessandro, i due si scambiano messaggi che testimoniano un profondo legame di amicizia, oltre a una sorta di protezione che Vannozza richiede a Rodrigo e di solito riesce a ricevere. In nome di Alessandro VI, gli impiegati papali riempiono le casse del Vaticano, concedendo licenze per bordelli e vische. Un contemporaneo si lamenta dell'enorme quantità di protettori e prostitute che fanno affari per le strade della città santa. La Roma del Rinascimento è il centro principale della cristianità e, allo stesso tempo, la capitale mondiale della prostituzione. Nel XVI secolo, Roma è definita una terra da donne. Vista con gli occhi di oggi, si guadagna questo titolo singolare offrendo la possibilità a donne e ragazze senza mezzi di fare carriera come cortigiane. Da tutta Europa affluiscono a Roma giovani donne che aspirano a condurre una vita indipendente come prostitute d'alto bordo. Queste cortigiane e le loro famiglie formano all'epoca il 10% dell'intera popolazione romana. Godono di grande libertà e sono generalmente molto ammirate. La parola cortigiana è già di per sé un programma. Incontriamo questo termine per la prima volta nel XV secolo, nel cosiddetto Liber Notarum, scritto da Giovanni Burcardo, il cerimoniere del Papa. Egli racconta di una festa alla quale partecipa una cortigiana, descrivendola così, «Hoc est meritrix onesta». Dunque una cortigiana sarebbe una prostituta rispettabile. Quasi tutti i documenti che attestano l'importanza delle cortigiane romane sono andati distrutti. È normale. Molti clienti erano viscovi, cardinali o addirittura papi. Serve l'abilità di un detective per portare alla luce le poche e nascoste testimonianze che ancora esistono sull'argomento. Alcuni documenti sono difficili da individuare. Qui, per esempio, abbiamo un registro delle tasse pagate dalle cortigiane. La letteratura del XIX secolo vi fa spesso riferimento. Perciò ero a conoscenza dell'esistenza di questa imposta speciale ed ero sicura che da qualche parte ne esistessero delle prove. Ma è stato molto difficile reperire i registri negli archivi romani. Li ho cercati dappertutto, per settimane, finché li ho trovati proprio qui, all'archivio di Stato. Ovviamente, l'imposta interessa solo le vere cortigiane, ma anche tra esse c'è un'enorme disparità sociale. Ad esempio, mentre una donna paga cinque scudi l'anno, altre ne pagano cento. Una vera fortuna, una somma enorme, che molti non riuscivano a guadagnare nell'arco di una vita. Dalla lista emerge anche la provenienza sociale e regionale di queste donne. La maggior parte delle cortigiane si è trasferita a Roma da luoghi diversi. Qui abbiamo, per esempio, una Laura spagnola, poi una certa Margarita perugina, che dunque veniva da Perugia, poi ancora una Margarita romana, ma subito dopo ecco una Maria Fiamenca, quindi olandese, una Polisena greca e di nuovo una Hachola spagnola, dunque donne provenienti da tutti i paesi. Le romane in realtà costituiscono il gruppo meno numeroso. Alessandro VI, che lascia entrare e uscire le cortigiane dal Vaticano, è il papa dello scandalo. Eppure anche grazie a lui che viene definita la politica mondiale dell'epoca. Nell'anno della sua incoronazione, Colombo scopre l'America. Alessandro si intromette nel contrasto fra spagnoli e portoghesi per il dominio sui territori d'oltreoceano. Con un colpo magistrale divide il nuovo mondo ed evita una battaglia navale devastante. Come ringraziamento, il papa ottiene il primo carico d'oro proveniente dalle Americhe. Quest'oro abbellisce ancora il toro dei Borgia raffigurato sul soffitto della chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma, tra le più antiche del mondo. Sfavillante come l'oro è anche il matrimonio della figlia del papa, Lucrezia, che aumenta la fama dei Borgia. Alessandro VI nomina Giulia Farnese sua prima dama di corte. Un onore con un retrogusto amaro per il papa, perché l'amata Giulia parte per accompagnare Lucrezia in terre lontane. La passione del papa per la sua amante minorenne è già da tempo bersaglio dello scherno dei Romani. Giulia è chiamata la sposa di Cristo, espressione di solito riservata alle monache. La passione del papa ha più avanti ai Borgia di Sant'Oni. La passione del papa è la piscina di Sant'Oni. La passione del papa è la presena di Sant'Oni. La passione del papa è il papa. Finalmente se ne va. Ora la mia vita tornerà in ordine. Questa è nuova? Di solito dite bugie al mondo, non a voi stesso Non riesco più a dormire Soltanto fra le sue braccia Mi sento bene, ma ora sta per andarsene Siete l'uomo più potente del mondo Finché i francesi non vi uccideranno Non dovete dipendere da una donna, santi te Sì, lo so Una volta dipendevo anche da te Quando me ne andai, pensavo a un addio Avrebbe trovato subito un'altra Oppure sarebbe diventato casto Mi avrebbe dimenticata Più in fretta di quanto ci metta un prete in San Pietro a concedere un'indulgenza Malgrado la lontananza dalla corte pontificia Giulia riesce ad esercitare la sua influenza su Alessandro VI E la usa in favore di suo fratello Alessandro Il giovane ha soli 25 anni, viene eletto cardinale E non è difficile immaginare chi sia l'artefice di questa operazione L'evento ovviamente sollevò un enorme clamore E il giovane Alessandro Farnese non ne fu immune Anche perché si sapeva che la bella Giulia divideva il suo letto con il papa Cominciarono a chiamarlo Gonnella o Cardinale della Gonna E anche con molti altri appellativi ancora più esceni Anziché Cardinal Farnese, il popolo lo chiamava Fregnese Ovvero Cardinal Vagina Un fondo di verità c'era Senza Giulia la sua ascesa sarebbe stata molto più difficile O addirittura irrealizzabile Negli archivi segreti del Vaticano Un carteggio sensazionale viene gelosamente tenuto lontano da occhi indiscreti Queste lettere d'amore tra il papa e la sua giovane amante Sono l'unico documento scritto di questa natura Da lontano Giulia Farnese conduce un gioco raffinato con il suo amante Giulia si firma sempre come da formula papale La vostra sottomessa schiava Ma l'umiltà è solo fittizia Le sue lettere sono un misto di passione e di sottile ricatto Vostra santità non è presente E dato che tutto il mio benessere dipende da voi Non posso trovare soddisfazione in alcun tipo di diletto Perché dov'è il mio tesoro, laggiù è anche il mio cuore Il papa è invecchiato e desidera a tutti i costi avere di nuovo Giulia accanto a sé Ma la bella, così denominata, impone le sue condizioni Vuole una diocesi per suo fratello Il papa non gliela concede, così minaccia di tornare con suo marito Questo desiderio scatena nel papa malato di amore una rabbia incontrollabile Giulia, perfida ingrata Pur considerando cattiva la tua anima Non riusciamo a credere che tu possa agire con tanta infamia Più volte hai giurato di affidarti completamente a noi Adesso invece vuoi concederti di nuovo a quello scervellato di tuo marito Ti vietiamo di concederti a lui Con minacce di scomunica e condanna eterna Tutto questo al papa non piace Lo rende geloso, lo fa arrabbiare E il fatto che lo ammetta in maniera così esplicita Rende questa meravigliosa lettera Nella quale urla contro Giulia Definendola una perfida ingrata Una confessione scritta molto personale Che non può essere interpretata soltanto in termini politici Voglio dire che era innamorato di lei E non sopportava che rivolgesse le sue attenzioni ad altri Cinque anni sono tanti per una quindicenne Credo che a vent'anni Giulia si fosse anche stancata E avesse trovato dei giovani molto più interessanti di lui Ma Alessandro VI non è solo un donnaiolo È uno dei papi più odiati e al tempo stesso più influenti della storia I papi, già dal Medioevo, ambiscono al potere temporale Al pari di re e imperatori Ma il celebato rende loro impossibile fondare delle dinastie Rodrigo Borgia però non si ferma davanti a questo ostacolo I suoi figli, nominati duchi e cardinali, dietro suo ordine Possono dichiarare guerra L'Italia è composta da tante città-stato in conflitto fra loro Alessandro VI vorrebbe riunirle tutte sotto la bandiera dello Stato Pontificio Servendosi della forza militare Sotto il suo governo, lo Stato Pontificio vive la sua massima espansione Ma i piani del Papa mettono in allarme le potenze straniere Nel 1494 un'enorme armata francese invade il nord Italia e si spinge fino a Napoli Anche Roma viene circondata Lo scomodo Papa deve essere destituito E come pretesto viene criticato il modo di vivere immorale del Santo Padre Giulia è fatta prigioniera dall'armata francese che avanza A quel punto il Papa reagisce È disposto ad assecondare qualsiasi richiesta dei francesi Pur dire avere la sua amata Questi ultimi si dimostrano cavalieri A fronte di un riscatto rilasciano l'ostaggio In una serata di novembre 4000 francesi accompagnano la bella Giulia Farnese fin sotto le mura di Roma Alessandro VI l'aspetta dietro le mura di Castel Sant'Angelo Come un giovane principe vestito di velluto nero Con la spada al fianco riceve la sua dolce amata Un coltello affilato e due mani non hai bisogno tanto Non è più di moda A Venezia nessuno mangia in questo modo Dimostramelo Quando ero cardinale ti concedevi e adesso che sono Papa ti neghi? Mi vuoi baciare? Vuoi baciare il mio piede? Ti costerà un anello Questo ti costerà la diocesi per mio fratello? E questo ti costerà il regno dei cieli La tanto attesa sentenza dei francesi non viene eseguita La rapida campagna militare perde l'impatto L'esercito francese arriva ad assediare la città santa Ma la sua forza non è sufficiente a cacciare il Papa dal Vaticano Alessandro VI rimane al potere Gli alleati li hanno abbandonati e la campagna militare fallisce I francesi però ritirandosi Lasciano in Italia un'altra punizione contro i costumi immorali del tempo Sotto il pontificato di Alessandro VI, o meglio nel 1494 Si riscontra per la prima volta a Napoli durante l'occupazione francese un caso di sifilide È un fenomeno di grande rilievo Perché la sifilide in effetti è la prima malattia virale a trasmissione sessuale Che si diffonde di colpo e molto rapidamente in tutta Italia e nel resto d'Europa Questo nuovo male francese tiene il paese sotto scacco Ad ammalarsi sono soprattutto gli esponenti delle famiglie di alto rango A Roma ne è contagiato Cesare Borgia, il figlio del Papa Ma anche altrove avviene lo stesso Persino Francesco I, il re di Francia, sarebbe stato malato di sifilide Per il momento il morbo non influenza i comportamenti sessuali della nobiltà Ma partecipare a un'orgia diventa sempre più pericoloso Giovanni Burcardo, maestro di cerimonie del Papa Descrive in un diario una delle ultime feste tenute in Vaticano Furono invitati parecchi ospiti Tra i quali 50 cortigiani E alla fine della festa fu organizzata una caccia al tesoro Vennero messe all'asta le vesti delle cortigiane più belle E dopo cena vennero disposti a terra alcuni candelabri con le candele accese E delle castagne intorno Che le cortigiane nude dovevano raccogliere con le mani e con i piedi Mentre il Papa, suo figlio Cesare e Lucrezia assistevano allo spettacolo Furono anche approntati dei regali per coloro Che riuscivano ad unirsi col maggior numero di donne Accadde di tutto Davanti agli occhi di tutti Poi vennero distribuiti i regali Già in vita il Papa aveva cominciato ad assumere tratti leggendari I romani erano convinti che il diavolo e i demoni agissero indisturbati all'interno del Vaticano Anche la festa più innocente poteva sfociare in un omicidio Se si fosse pronunciata una parola fuori luogo, un commento non richiesto O se qualcuno si fosse sentito offeso Anche in Vaticano avvengono delitti raccapriccianti Uno dei figli di Alessandro viene assassinato e gettato nel Tevere Un genero del Papa, uno dei mariti di Lucrezia, viene ucciso proprio all'interno del Vaticano E si dice che il sangue sia schizzato fino sulle pareti In questa epoca densa di omicidi, di bellezza e di avidità Anche i Borgia vanno pian piano alla deriva In modo inesorabile, quanto trionfale L'angelo della loro storia, colui che li ha fatti ascendere, ora li lascia cadere Nell'agosto del 1503, Alessandro VI si ammala dopo un ricevimento I sintomi fanno pensare alla malaria Ma i suoi contemporanei credono che si tratti di un avvelenamento Una settimana più tardi, il Papa muore Con la sua fine, crolla anche la dinastia dei Borgia Una truppa di cavalieri ti aspetta Ti porteranno al sicuro E dove? Devi sparire da Roma E anche in fretta Il mio amore è morto Il Papa è morto, Giulia Nessuno sa come possa reagire il popolo Ma quello che faranno le famiglie alle quali il tuo amore Ha ucciso padri e figli Mi preoccupa enormemente Io agito Pensando soltanto a te Ho fatto unicamente ciò che Se sei diventato cardinale, grazie a me La tua presenza a Roma danneggia la famiglia Se vuoi che il tuo sacrificio abbia un senso Tutti d'ora in poi, udendo il nome dei Farnese, dovranno pensare solo a me E a me rimangono le pecore e i soldati di Capodimonte Fa come credi E il mondo dimenticherà la tua esistenza Dopo la morte del Papa Il giovane cardinale incoraggia sua sorella Giulia a lasciare Roma Perché gli è ormai chiaro che è diventata un ostacolo alla sua carriera Non sa più che farsene di lei Non la uccide Malgrado a quei tempi non suscitasse scalpore una soluzione di questo tipo Anche tra fratelli, come ben sappiamo, dalla famiglia Borgia Ma in qualche modo ottiene lo stesso risultato Giulia viene quasi del tutto dimenticata da quel momento in poi La sua storia è stata dimenticata Ma questa statua nella Basilica di San Pietro Immortala ancora la sua bellezza La scultura occupa un posto in questo luogo sacro non per volontà di Giulia È parte di una tomba monumentale Dedicata alla memoria di suo fratello Nel 1534, infatti Trent'anni dopo la morte di Alessandro VI L'ambizioso Alessandro Farnese diventa egli stesso Papa Col nome di Paolo III Anche lui ha un amante e dei bambini Ma attua un allontanamento della Chiesa Cattolica Dalla mondanizzazione e dall'immoralità Alessandro Farnese diventa un Papa importante E un pilastro della controriforma È a lui che si deve un vero cambiamento di direzione nella Chiesa Paolo III rinnega totalmente la vita che ha vissuto da giovane E grazie alla quale è arrivato a quel livello Ricordiamo che è grazie ad Alessandro VI e al suo pontificato Che possiamo definire decisamente mondano Che ha avuto la possibilità di diventare prima cardinale e poi Papa Nonostante ciò decide di riportare la Chiesa Verso l'idea di devozione dei primi cristiani Che da tempo era andata perduta Quando Alessandro Farnese diventa Paolo III Finisce l'era del Rinascimento Il Papa Paolo III combatterà contro Martin Lutero e la sua riforma in Germania A inizio l'epoca della controriforma e delle sanguinose guerre di religione europee Paolo III fonda anche l'inquisizione romana e impone con la forza l'austerità morale e la purezza della fede Durante la battaglia contro i protestanti Alcune vicende storiche del cattolicesimo diventano scomode E si cerca di cancellarle con ogni mezzo Nemmeno lo stemma pontificio di Alessandro VI a Castel Sant'Angelo Può essere conservato Si elimina il passato Lo hanno fatto i faraoni Che rompevano il naso ai loro predecessori Perché dicevano che attraverso il naso l'anima respirava In questo modo il vecchio faraone veniva distrutto e abbattuto per sempre Si distruggono i simboli Gli stemmi Si tinteggiano le mura Ricoprendole con nuove raffigurazioni Si introducono dappertutto nuovi simboli e nuovi segni Questo diventerà evidente con il moralismo del XVII secolo Che condanna del tutto la sessualità Il ricordo dell'amante del Papa a Vannozza Diventerà insopportabile per le generazioni successive La sua lapide, che si pensava distrutta Riemerge in circostanze misteriose Nella chiesa di San Marco Evangelista di fronte al Campidoglio Si è cercato in tutti i modi di cancellare Il nome di Vannozza Cattanei e dei suoi figli Ma in vano La statua di Giulia nasconde un segreto Al quale nessun fedele oserebbe pensare In origine la statua era nuda Per la sua forte carica erotica Si fermavano ad ammirarla viaggiatori da tutto il mondo Ma per ordine di un altro Papa Le sue forme sinuose vengono coperte da un rivestimento in piombo Giulia sopravvive soltanto sei anni a Vannozza Nel suo testamento lascia tutto in eredità alla figlia Laura Avuta da Alessandro VI Al fratello invece lascia soltanto un pezzo di mobilia Il letto nel quale è stata decretata la sua ascesa sociale La tomba di Giulia è a noi ignota Niente di lei è rimasto A parte il letto Il letto dell'amante del Papa Il letto del Papa Grazie a tutti.